Allora, sì, quello è il tuo set per brindare, brindare tutti quanti insieme, aspetta, vedi a posto. Vabbè, prendi il primo e buonanotte. Questo è il tuo regalo di Natale. Grazie. Avvilo. Cin cin. Apriamo il regalo. Senti a tutti amici di YouTube. Belli spacchetti a venti. Una carta, grazie. Bellissima. È il mio regalo di Natale. Grazie. Lo segui. Non funzioni. Dai. Opa, ti finisci nel scatto. Protegui. È che non lo puoi provare. Uno scatolo per metterci le cose. Bellissimo. Uno scatolo porta gioia. Mettiti dentro. No. No, lei mi l'ha fatto. Sto. 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 C'è questo E' rimasto E' arrivato Babbo Natale Non ti ha trovato E' passato Babbo Natale Non ti ha trovato Ha detto moglie Li lascio a Valeria Puoi aprire questo per favore Qua la batteria se ne va intanto Io non ti ho preso i cavi Perché se tu tanto ce li hai Solo di cavi Grazie Secondo regalo Calcola che questo è un regalo di gruppo Nel senso che tu lo aprirai Però per completarlo Avrei bisogno dell'aiuto di tante persone E' un puzzler E che puzzler Un signor puzzler E' un puzzler di palettia Avrei avrei Sta scritto con tempo si Spacca Spacca Spacchetta 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 E poi c'è un altro regalo, questo è un regalo che gli ha fatto mamma, che ci ha proprio pensato, appena l'ha visto ha detto questo è per Pielo, no 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 prima apri questo, che si Masterchef. Prosegui per favore. Vedere, vedere, vedere. Indossate please, eh, ora vediamo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.